Emanuele Pigni è appena finita la partita di Monsummano, partita che non finiva più Faenza torna a casa con i due punti, le tue impressioni? No, sapevamo che loro erano nascoste a Toste, giocavano solo in 6-7 ma Cimulamba infatti l'ha dimostrato stasera, noi siamo stati diciamo più bravi di loro a portare a casa la partita e due punti molto importanti Si, diciamo che Buon Biatico per un'altra trasferta che sarà domenica prossima a Rimini Si è un'altra partita importante perché comunque è nata fuori casa e dopo questa vittoria siamo molto carichi Bene, grazie Emma